Cristianessimo Cristianessimo non è un'etica solo. Sì, davvero, ha dei principi morali, ma non si è cristiano soltanto con una visione di etica. E di più, Cristianessimo non è un'elite di gente scelta per la verità. Questo senso elitario che poi va avanti nella Chiesa, no? Per esempio, io sono di quali istituzioni, io appartengo a questo movimento che è meglio del tuo, che è questo dell'altro, è un senso elitario. No, il Cristianessimo non è questo. Il Cristianessimo è appartenenza a un popolo, a un popolo scelto da Dio, gratuitamente. Se noi non abbiamo questa coscienza di appartenenza a un popolo, saremmo cristiani ideologici. con una dottrina piccolina di affermazione di verità, con un'etica, con una morale, sta bene. O con un'elite, se sentiamo parte di un gruppo scelto da Dio, i cristiani, gli altri andranno all'inferno, o se si salvano è per la misericordia di Dio, ma sono gli scartati. E così via. Se noi non abbiamo una coscienza di appartenenza a un popolo, noi non siamo dei veri cristiani. non abbiamo una coscienza di appartenenza a un popolo, ma sono dei veri cristiani. Grazie a tutti.